Dopo un silenzio assordante di davvero troppi mesi, finalmente Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa giovedì alle 11.45 parlerà davanti ai giornalisti, presuppongo in concomitanza con la presentazione del nuovo allenatore Paolo Fonseca e finalmente secondo me potrà spiegarci quale è attualmente il suo ruolo all'interno di questa società e come spero faccia ci spiegherà il progetto del dopo Pioli, cosa intende fare la società e un pochino le ambizioni che fondamentalmente è ciò che aspettiamo tutti da veramente 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 troppo tempo quindi aspettiamo le parole di Zlatan, voi cosa ne pensate? Secondo voi cosa farà? Annuncerà la sua partecipazione alla Kings League o parlerà del Milan? Dai ragazzi, sempre forza Milan e vediamo un po' cosa succederà Non dimenticatevi chiaramente di seguire AC Milan Inside e seguirmi sul mio profilo personale Vtraimovic, mi raccomando perché se no l'Inter vincerà lo scudetto anche il prossimo anno e noi non vogliamo questo, bella!